Non è la destinazione, è il viaggio che conta. E io so esattamente dove andare. Lo sai che è strano essere qui da sette giorni completamente da solo, però ti dirò che non mi dispiace. Anzi è un modo diverso di mettersi in viaggio e questa può essere una grande occasione. In queste situazioni poi a me piace perdermi, diventare qualcun altro. E' bello potermi creare una realtà parallela, cioè non una, ma tante vite che si sovrabbongono. Sono giorni che mi perdo in queste parole, continuo a rileggerele eppure rimangono così distanti. C'è un momento sembrano qui e poi puff, svaniscono. Sono passati sette giorni e sette notti. Io ho imparato che il tempo si può dilatare o anche restringere. Ma anche se sento crescere la pressione intorno a me, questa sfida a me piace. E' come se mi piace. Ci provi, ritenti, rilanci, insegui, sogni e intanto vai avanti. Tu te lo chiedi mai se si possono vivere le emozioni degli altri. Intanto dire andare oltre se stessi. Per me è questione di metodo, devi solo trovare il tuo ritmo e il tuo stile. Grazie.